Tra due anni scadrà la concessione in comodato d'uso alla parrocchia di San Giovanni Evangelista dei locali dell'ex convento a Tigui alla chiesa di Via Cappuccini. Il consigliere comunale di SEL, Salvatore Di Cesare, ha scritto al sindaco Peppino Ranalli affinché si incomincia a pensare sin da ora a come utilizzare l'immobile quando nel 2016 tornerà nella piena disponibilità del comune. Di Cesare chiede di mettere la struttura a disposizione della collettività e di quelle tante associazioni culturali, sportive e di volontariato. L'esponente di SEL invita il primo cittadino a predisporre insieme un programma per l'utilizzo più opportuno del bene immobile per assegnare i locali a chi risulterà in regola dopo aver presentato richiesta. Gli spazi totali disponibili sono di 3.777 metri cubi. Per Di Cesare vi potrebbe definitivamente alloggiare l'archivio comunale innanzitutto per permettergli di sistemare quegli atti e documenti che restano ancora nell'umido di uno scantinato in via Mazzara per il quale il comune corrisponde un oneroso canone d'affitto ad un privato. Con una dislocazione idonea l'idea sarebbe quella di chiedere all'archivio di Stato la restituzione dei documenti storici del comune perché riunendo il materiale, afferma di Cesare, potremmo dar vita al progetto di archiviazione e conservazione dei documenti comunali sviluppando un progetto e qualche posto di lavoro con la sovrintendenza che potrebbe mettere a disposizione due archivisti per lo spostamento e la catalogazione ordinaria degli atti e di tutto il materiale appartenente all'archivio comunale. Di Cesare fa inoltre presente che, essendo spazi notevoli, potrebbero andarci uffici comunali distaccati e servizi al cittadino come il CUP a servizio della nutrita comunità della zona di via Cappuccini, un centro studio e di ascolto da gestire con le associazioni di volontariato, una sede della protezione civile ed altri uffici per ridurre le attese. Salvatore Di Cesare immagina nelle sale dell'ex convento anche la nuova biblioteca comunale Publio Video Nasone, visto che i locali in piazza Salvatore Tommasi sono ancora chiusi per inagibilità dopo il sisma del 2009. La struttura fu affidata gratuitamente alla parrocchia di San Giovanni Evangelista 28 anni fa dal Consiglio Comunale. Ci sono tutti gli spazi necessari alla pubblica amministrazione, conclude Di Cesare, per aprire uffici e servizi che altrimenti andrebbero ospitati in locali in cui il Comune pagherebbe spese superiori da corrispondere a privati.